Ciao a tutti ragazzi sono Gio3.0 e bentornati in questo nuovissimo video come special dei 100 iscritti faremo la prova, la prima vera e propria prova della canoa trasparente ossia del progetto dell'estate 2019 se solo riuscisse ad inquadrarla bene con il telefono sto con il REM in mano perché sono abbastanza teso per questa cosa e oggi con un gruppo di amici ne andremo a testare vi dico che questa è la prima vera e propria prova quindi tutto quello che vedrete sarà effettivamente la prima vera e propria prova quindi come va va o la va o la spacca letteralmente speriamo che galleggi che non faccia la fine del Titanic spero che il video vi piaccia e buona visione ragazzi questa è la fase del trasporto abbiamo messo tutta la struttura in macchina questa è una delle fasi cruciali e niente speriamo che vada a buon fine tutto quanto funziona? funziona? sta facendo la fine del Titanic guarda lì a questo punto del video sorge una domanda spontanea Giorgio perché hai caricato il video nonostante la prova fosse andata male beh per due motivi uno per farvi vedere come è andata la situazione realmente e due per farci quattro risate insieme visto quello che è successo ho fatto il video più buttato sul ridere apposta un'ulteriore motivazione ragazzi è stato dimostrarvi che non tutti i progetti vanno in porto ha fatto la battuta ma che ogni tanto si fallisce e magari in futuro riparare dagli errori infatti se il prossimo anno ne avrò le possibilità ci riproverò detto questo ringrazio di cuore le persone che mi hanno aiutato a varare questo gioiellino lino per modo di dire se siete nuovi iscrivetevi al canale mettete like condividete eccetera la campanellina degli iscritti per quanto riguarda fateli una bella suonata qua inoltre vi lascio anche un bel soldaggio in modo che posso sapere anche i vostri gusti e al prossimo video